Il 25 aprile. Non è un caso che il 25 aprile venga un po' prima del primo maggio. Una è la festa della liberazione, l'altra è la festa dei lavoratori. A me piace ricordarli insieme, perché insieme per anni e anni abbiamo fatto un corteo per il 25 aprile e un altro per il primo maggio. In questo periodo non si possono fare cortei, in questo periodo non possiamo correre dall'aria aperta e fare il picnic del primo maggio e quello del 25 aprile, sì, vabbè, però possiamo parlare, possiamo gridare, possiamo correre, possiamo sognare. In questo periodo possiamo fare un sacco di cose che ci permettono di sentire dentro di noi la voglia della libertà. Sì, dentro di noi, dentro di noi con lo spirito di mio zio combattente, il mio zio che ci ha insegnato che a vent'anni, a vent'anni, o sia rivoluzionari o a sessanta sia sbirri. Beh, ragazzi, con il cuore in mano e con la voglia di lottare di sempre, che canto per il 25 aprile. Canto, anche se sono stonato, una canzone che si ripete da tanti, tanti anni, che grida in piazza, in piazza, a cercare le nostre spazi, le nostre libertà, a cercare, cercare quello che possiamo ancora trovare, uno spazio di vita e un sorriso, un abbraccio e la voglia di correre e ridere e raccogliere i fiori il primo di maggio. Viva, viva il 25 aprile, viva il primo maggio, viva la nostra libertà, che nessuno, nessuno, mai più ci toglierà. Buon primo maggio, buon 25 aprile, ecco, lasciatemelo dire, non c'è niente, niente più bello che manifestare, che correre, che vivere, che non morire.